magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale come ogni venerdì andiamo di fanta consigli in pillole più i miei indici di schierabilità mi raccomando subito un grandissimo like iscrizione tattica al canale che portano benissimo entrambe le operazioni e in più potete venire oggi alle ore 14 sarò già in live per darvi tutto l'aiuto possibile potete farmi tutte le domande che volete la live sarà lunga in modo tale da rispondere a tutti gli iscritti al canale altra cosa che vi ricordo e poi cominciamo in descrizione trovate il link di starks che questa giornata parte già il fantacalcio di starks starks è una piattaforma in cui potete acquistare i token ufficiali dei giocatori di serie ci sono già tanti giocatori forti come cirio immobile come scamacca come frattesi come carne secchi che sono veramente tantissimi e già hanno pubblicato i premi veramente premi incredibili tra cui scooter computer playstation e quant'altro quindi se volete registratevi da quel link se depositate almeno 20 euro starks vi regala anche 15 euro di bonus ma passiamo ragazzi subito al video allora la prima partita questa sera alle ore 18 e 30 sarà sassuolo salernitana qui ragazzi gli indici sono facili cosa sono gli indici più è alto il valore di fianco ai giocatori più vuol dire quel giocatore è schierabile al al fantacalcio allora per me questa è una partita come ho messo 2 a 1 è una partita in cui il sassuolo deve cercare di vincerla sono e potrebbero segnare entrambe le compagni quindi portieri non li ho messi altissimi ho consegnato tol gianni che sta facendo abbastanza bene torsved viene da un gol ed è sempre uno abbastanza pericoloso anche se gioca più indietro bairami potrebbe essere schierabile qualora giocasse titolare perché in quel ruolo sono in tanti nel sassuolo e mi aspetto una buona prestazione dal trio d'attacco soprattutto da pinamonti perché ovviamente chi ce lo ha berardi lo mette io sottolineo pinamonti lato salernitana dietro mazzocchi potrebbe essere un giocatore interessante in questa giornata il centrocampo sicuramente l'unico è candreva da schierare e c'ha una può essere una una scommessa se comincia a portare dei bonus e poi dia dia da mettere su me la difesa del sassuolo un po come quella della salernitana non è il massimo in questa in questa serie a passiamo a genoa verona è una partita secondo me in cui non sarà facile fare tantissimi gol poi magari mi sbaglio però nell'analisi mia io prevedo non tantissimi bonus prevedo uno due gol da parte del genoa e sicuramente i giocatori maggiormente consigliati dietro dragusin ma anche vasquez se abbiamo un modificatore si possono mettere nel centrocampo malinoschi può essere sempre quella quella giocata quel giocatore che magari ci porta un buon voto e magari condito da un bonus friend group giocatore molto costante difficile il bonus udo munson la certezza lato verona faccio più fatica a mettere qualcuno dietro anche lo stesso faraoni lo stesso doig non stanno facendo bene nel centrocampo invece duda e folo ruscio potrebbero essere due scommessine niente male infatti ho messo la la scommessina davanti onestamente andrei andrei su altri giocatori non mi piacciono lecce milan e questa è una partita difficile per il milan e ha una trasferta complicata io penso che il milan sia più quello che abbiamo visto con il paris saint germain che quello che abbiamo visto all'ultima di campionato contro l'udinese lato lecce allora sicuramente ci sarà strefezza che è uno dei giocatori che si possono mettere al fanta anche se è una partita complicata dietro si fa fatica a mettere qualcuno centrocampo strefezza al massimo un rafiao udendo alla panca potreste schierare se proprio siete corti davanti christovic potrebbe far fatica perché tomori e ciao per me possono fare bene però christovic è un bell'attaccante quindi è uno che negli ultimi slot si può anche mettere lato milan io come dicevo penso che il milan possa fare una buona partita megnani in porta secondo me al massimo può subirci un gol quindi è abbondantemente schierabile i difensori potrebbero fare tutti bene ho messo teo e tomori sullo stesso livello perché teo è più da bonus tomori più da modificatore centrocampo ho voluto fare la scommessina ciuguezze ma qui non è tanto un crederci in ciuguezze è un se lo abbiamo preso anche perché magari ve l'ho consigliato io e non è andato non è andato affatto bene però una volta che ce l'ho questa settimana provo a dargli fiducia poi se fa ancora male magari non non lo mettiamo anche perché pulisic non ha nulla quindi dopo la sosta delle nazionali tornerà e davanti giro leao per me sono sempre schierabilissimi infatti gli ho dato un indice molto alto passiamo a juventus caieri ragazzi mi raccomando un bel like e iscrizione al canale vi aspetta alle ore 14 live per farmi tutte le domande che volete dalle ore 14 perché almeno fino alle 15 e 30 sono sicuro qui su youtube ma se siete in tanti probabilmente potrei fare anche due ore di live l'importante è rispondere a tutti gli iscritti al canale e quindi per questo è importante iscriversi perché le live sono aperte solo per gli iscritti allora scesne in porta gli do 10 perché magari il gol col caigliari lo può prendere però la juve viene da una serie infinita di clean sheet in cui scesne sta facendo anche bene per il modificatore dietro bremer per me se ho mod lo devo mettere assolutamente quindi io ho messo anche lui un bel 10 e poi mi piace anche cambiaso più per diciamo un bonus che per il modificatore anche rugani per il mod può può far bene centrocampo meccenni e quello come scommessina interessante costic un po più una certezza per qualche assist davanti la coppia vlaovic chiesa va schierata ragazzi lo so che in tanti magari state pensando ma gioca ken io li metterei io li metterei se li ho lato caigliari faccio fatica ho messo ristanio come scommessina interessante e davanti metto l'ugumbo a 6.7 come dire se il nostro terzo slot è un giocatore che magari ha hanno tutti partite difficili magari mi rischio l'ugumbo monza torino partita decisamente non non di facile lettura in cui il monza è sicuramente favorito e il toro però deve cercare di dare un po di continuità dopo questa vittoria contro il sassuolo lato monza io ho messo un voto alta di gregorio perché anche se c'è il toro per me va schierato un portiere così forte dietro ho messo più alto chiriacopolo sui tutti perché sta facendo benissimo ma ho dato una possibilità ad ambrosio perché da ex non potrebbe fare bene centro campo mi stuzzicava tantissimo iardini infatti ci ho messo la stellina col pani bisogna dare 10 perché chi lo ha lo deve mettere assolutamente al fanta e poi anche pessina per i rigori per tutto questo va va messo e davanti colombo anche abbastanza schierabile anche perché secondo me se la vedrà contro zima e non buongiorno perché buongiorno probabilmente farà il il braccetto come ha fatto un po contro il il sassuolo quando è uscito rodriguez nel lato toro sicuramente dietro quello che mi piace di più è buongiorno perché ha una continuità impressionante un giocatore che a me fa impazzire e nel centro campo io ho messo vlasic come consigliato perché si è sbloccato e questo è importante per un giocatore come lui quindi magari può portarci qualcosa e gli altri tamese potreste metterlo all'ultimo ha fatto anche due assist un'ottima prestazione magari difficile porti altri bonus però un buon voto potrebbe sempre portarcelo e davanti ho messo più sanabria di zapata perché io vedo un zapata in in difficoltà mi raccomando un bel like ragazzi mi raccomando napoli empoli questa è una partita in cui io non vedo storia vedo un napoli nettamente favorito e ne ho messi tanti consigliati quelli da mettere diciamo assolutamente sono di lorenzo natan e ostigard sono messi da mettere sia se abbiamo un modificatore e ostigard anche se non ce l'abbiamo perché di testa potrebbe essere un fattore contro contro l'Empoli nel centro campo ho messo zielischi e politano da schierare assolutamente perché politano in una forma straordinaria non si può fare a meno zielischi da ex ha segnato sempre all'Empoli all'Udinese e quindi lo metto in questa giornata altissimi anche il raspatore e Kvara perché insomma dobbiamo metterli stanno bene anche se Kvara non sempre diciamo porta i gol che sta portando Raspadori però Kvara sta bene lo metto lato Empoli faccio fatica a fare a fare dei nomi si potrebbe mettere Baldanzi perché diciamo è l'unico difesa centrocampo da schierare Caputo ha avuto una palla a gol e l'ha buttata dentro all'ultima però veramente se proprio non abbiamo altre altre scelte passiamo a Fiorentina Bologna questa sarà una bella partita tra due squadre che stanno stanno bene più il Bologna forse che la Viola però la Viola aveva fatto benissimo all'inizio del campionato poi diciamo ha avuto anche delle partite un po' toste tra cui l'ultima quella con la Juve e questa sarà una buona partita io ho messo leggermente favorita la Fiorentina potrebbe anche uscire un pareggio o il Bologna corsare a Firenze non mi stupirebbe neanche perché sono veramente due belle squadre che giocano a calcio io dietro ho evidenziato Martinez Quarta ma anche Biraghi perché ho addirittura dato più a Biraghi di Martinez Quarta potrebbe essere una partita in cui Biraghi ci porta un bonus sono un po' queste le partite in cui Biraghi segna quindi lo metterei anche evidenziato mettiamolo evidenziato Biraghi centrocampo sicuramente Jack deve tornare al bonus me l'aspetto almeno un assist in questa partita davanti più Nico Gonzalez di tutti sull'attacco li porta Beltran però ieri Inzola si è sbloccato è vero che su rigore però l'ha procurato lui è vero che era una squadra abbastanza modesta però vediamo perché Beltran non stava benissimo quindi potrebbe giocare anche in Balanzola lato Bologna io non me la sono sentita di mettere i giocatori sconsigliati in tal senso ovviamente ci sono gli indici che indicano che dietro Calafiori forse anche più di Obeochema è schierabile perché sta portando tanti voti buoni per chi ha un mod anche Posch è schierabile solo che Posch se non vi porta un bonus rischia questa giornata perché magari vi porta un giallo e quindi preferisco magari andare più sulle certezze anche se Posch magari ha più possibilità degli altri di portarci un bonus centrocampo Orsolini e Ferguson sicuramente sono da mettere è vero che la partita non è facile mi piace più Orsolini a questa giornata di Ferguson quindi proverei messo un pochettino più lui di Ferguson e davanti Zirze per me è sempre abbastanza schierabile passiamo a Udinese Atalanta Atalanta che ieri di misura è riuscita a portare a casa i tre punti è il passaggio del turno lato Udinese dietro forse Bosele potrebbe essere quello che si può andare a rischiare le Udinese non mi fanno impazzire nel senso i difensori centrocampo ho messo più Samarzic forse avrei dovuto mettere un po' più Pereira andiamo a mettergli un 7 ecco Pereira forse non l'ho modificato perché magari con i rigori dalla sua può essere un fattore importante quindi Pereira andrei a rischiarmelo lato Atalanta ne ho messi diversi perché Zappacosta prima o poi deve tornare al bonus con la Sinac sta facendo benissimo è un giocatore abbastanza continuo ieri l'ha anche elogiato mister Gasperini Atebor ieri nella partita sia Atebor quando è entrato sia dall'altra parte ha fatto bene anche Bakker l'Atalanta secondo me sta bene quindi mi aspetto un'Atalanta che possa portare a un risultato positivo Ederson ha scommessione interessante Copp Maners è la certezza davanti voti alti indici alti sia per Luckman che per Scamacca perché per me loro due insieme a Copp Maners potrebbero portare i gol in questa partita passiamo al derby passiamo al derby ma vi ricordo un grande like che portano un bene pazzesco e magari invece di fare 71 e mezzo fate 72 con like tattico e vincete il match derby derby difficile io nell'analisi di mercoledì ho detto che vedevo favorita la Lazio perché i derby li vince chi ci arriva peggio dopo le partite di Coppa non so se ci arriva peggio la Lazio o peggio la Roma perché la Roma ieri veramente è una partita imbarazzante e se uno come Murigno dice che salva solamente Bove in quella partita vuol dire veramente che hanno fatto pena io della Lazio ho messo in evidenza Romagnoli e l'ho messo quanto Lazzari perché Lazzari il suo lo sta facendo sta spingendo bene e Romagnoli lo metto da ex potrebbe essere una partita magari in cui può andare anche a incidere in zona bonus nel centro campo bisogna vedere se Luiz Alberto ci sarà perché sia lui che Zaccagni hanno dei problemini si portano dietro dei problemini dalla Champions Felipe Anderson è quello che mi piace di più questa settimana perché è integro perché nei derby potrebbe andare a portarci quel bonus io me ne aspetto almeno uno almeno uno da Felipe Anderson immobile l'ho voluto menzionare dopo la dopo il gol di Champions magari ha ritrovato fiducia ma occhio a Pedro occhio a Pedro oggi non ne ho incoraggiati perché devo fare un video breve occhio a Pedro da ex perché può segnare Pedro dei derby è un fattore importante quindi occhio a lui lato Roma dietro onestamente non mi fanno impazzire se ci sarà Spinazzola uso il condizionale perché non è detto che ci sia dal primo magari potrebbe subentrare è quello sicuramente che si potrebbe andare a schierare nel centro campo quello più indicato è Cristante perché anche quando magari non porta bonus il suo lo sta facendo Awar è una scommessa più da bonus che da rendimento che da da voti buoni Di Bala Lukaku ho messo leggermente sopra Lukaku però qui il rischio è alto il rischio è alto cioè Di Bala sappiamo che se sta bene magari il buon voto condito da un assist lo porta Lukaku se non fa gol magari è un votaccio quindi ovviamente non posso metterlo più basso di così perché Lukaku però spesso queste partite Lukaku le floppa vediamo vediamo speriamo di no perché ce l'ho in tutti gli stoni Inter Frosinone è l'ultima partita di domenica ore 20.45 questa è una partita non facile da leggere in cui la lettura semplificata è l'Inter per come anche ho messo gli indici dovrebbe fare un sol boccone però l'ultima partita prima della sosta l'Inter deve approcciarla bene mi importa ho messo Sommer a 7.8 il gol secondo me potrebbe anche prenderlo l'Inter perché il Frosinone davanti sa attaccare bene dietro mi piacciono Darmian perché è il classico soldatino dell'allenatore dove lo metti lo metti fa bene Danfriss di Marco non potevo non dargli 10 perché sono due difensori più forti che hanno più che forti direi che hanno la miglior media voto fanta media voto tutto quello che vogliamo stanno facendo bene poi nel centrocampo ho messo 10 a Ciala perché anche non dovesse far bene ma solo già solo per l'importanza che ha per i rigori lo devi mettere Big Italian mi piace più di Barella tra i due davanti che atturiamo Lautaro Martinez li mette lato Frosinone c'è poco da dire sarà una partita difficile dietro ho messo più Marchizza degli altri centrocampo era in dubbio tra Renier e Ibrahimovic alla fine ho scelto di dare qualcosina in più a Ibrahimovic perché mi è piaciuto tanto all'ultima giornata e davanti sull'E schierabile perché è pur sempre un giocatore che salta l'uomo e potrebbe portare il bonus al Frosinone forse negli 11 del Frosinone quello da cui ci aspettiamo di più è proprio sull'E ragazzi io vi ricordo di lasciare gli ultimi like di iscrivervi al canale e se vi iscrivete al canale potete venire dalle ore 14 poi qui in live a farmi tutte le domande che volete sui vostri dubbi di formazione quindi vi aspetto ci vediamo pomeriggio e vi auguro una buona giornata ciao ragazzi ciao a tutti Grazie.